Buono il dritto di Coria sulla riga. Perde un punto, praticamente è fatto Coria. Stranamente in questo primo game è andato diverse volte da quella parte, però poi è un giocatore che non so se si dimentica oppure non ha fiducia. La palla ha rimbalzato sul nastro. Anche perché lui è over, è sopra, non è che lo tiene, lo ha ormai superato sicuramente. Un giocatore da questo punto di vista perfetto. Splendido. Eh, bravo Coria, si è meritato a questo punto perché è riuscito a rimanere. Come si muove Coria? Sì, ma come gioca Nalbandian, sapendo come si muove. Costretto a rincorrere Nalbandian, arriva la palla corta di Coria. È il suo schema classico sulla terra rattuta, gli serve per aprire il campo anche. Perché ci sono cinque punti di vantaggio di Johansson su Ferrer. Sa com'è contento lo spagnolo. Bello scambio e bell'attacco in controtempo con la vola in contropiede. Molto bravo Nalbandian. Questa è la soluzione di Rovescio lungo riga. Non chiude qua. Eh sì. E incassa il pallonetto. Agassi, ma Gonzales non è eredita alla sconfitta di Agassi. Ripetiamo, Gonzales entra con... Zero vittorie e zero sconfitte. Ha comunque la possibilità... E 15.40. Molto bravo. Questa è pasta per Milano. Giusto perché ha soffiato un pochino. E' caduto Nalbandian. Bello, bello, bello. Gran punto. Era successo anche a Martina Inghis nella finale a Roland Garrosso del 99 contro la Graff. Qui ha perduto il servizio in un paio di occasioni e aveva battuto da sotto. Un momento di crisi. Finalmente un'accelerazione di Nalbandianche. Servizio e volene Nalbandianche. Qui due dritti. Poi la seconda vedi com'è leggera e timida. Grande coria, grande coria. che venga fatta con continuità o almeno insomma sempre nello stesso posto. Poi magari la potrà fare anche ovunque. Si diffondono sempre più voci su un malanno molto grave nel ginocchio di Safis. Però il suo agente ogni volta smentisce, dice che se tutto andrà a secondi piani... Bravissimi. Grandissimo rovescio. Vedi? Il nostro amico di Molfetta. Morale è di stile. Grazie. 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 Non so come va al servizio però. Più della metà. Una buona, meglio. alla fine a pietà David Albandiane il suo avversario di noi mette fine a questo strazio che è durato quasi due ore 7-5 e 6-4 il punteggio a favore di David Albandiane che quindi registra la presa